La Raiber Cup. Noi su Roma puntiamo molto forte. Secondo me lo impreziosirà come nessun'altra sede sarebbe nella condizione di fare al mondo. Quando RCE e Ropentura hanno deciso di assegnare l'Italia la Raiber Cup, la magia della città come Roma si è stata decisiva e determinata. La Raiber Cup è un evento unico, un evento che trascende il sport, è un evento che trascende in generale i fan e le persone che vogliono vincere un spettacolo. E penso che questo è quello che le persone si scoprono quando si vedono Marco Simone per la prima volta. Il Marco Simone è nato proprio come un atto d'amore dei miei genitori Laura Biagiotti e Gianni Cigna nei confronti di questo luogo meraviglioso. Prima il restauro del castello, la cui torre risale all'anno 1000, e poi è arrivato il campo da golf. 150 ettari che si snodano proprio intorno alla torre del castello come una gigantesca, straordinaria e unica gonna verde. Il Marco Simone è nato alla fine degli anni Ottanta proprio per dotare Roma di un impianto internazionale, di un impianto all'avanguardia che attraesse grandi tornei. Questo campo è già ospitato in Open Italia nel 1994, ma non sarà mai come prima, sarà tutto un'altra cosa. Ci pensavo inizialmente a un minimo di staglio del campo, ma in realtà il campo è stato rifatto completamente tutto, con anche delle condizioni di ecosostenibilità importantissime, che poi si vedranno anche successivamente, durante la Ryder Cup del 2023. Quando hai un nuovo progetto 18 allo, hai cercato di trovare i migliori 18 golf holes per questo luogo. Quando hai un Ryder Cup, hai cercato di trovare i migliori 18 golf holes, tutti i spectatori e i uniti di hospitalità. Quindi, hai cercato di trovare i migliori 70-80-hectare, e hai cercato di trovare i migliori 18 golf holes, e hai cercato di trovare i migliori 18 golf holes. Abbiamo battuto, per esempio, i tiloni dell'alta tensione, i giorni stessi dell'Octavo in cui tutta l'Italia era ferma bloccata, noi con l'elicotteri abbiamo portato i tiloni. Questo è una cosa che va raccontata al mondo dello sport in generale. Il sito, non solo ha un grande viso di il golf hole, ma anche un grande viso di diversi altri golf holes. Con l'elicotteri, abbiamo trovato 3 o 4 vantaggi points over la città di Roma. Quindi, c'è un vero dramma. 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 Io ho seguito i lavori giorno per giorno abitando qui. È stata per me un'avventura personale, professionale straordinaria, non senza difficoltà naturalmente, ma che sono state risolte con l'entusiasmo, con la visione, con la professionalità e naturalmente con la programmazione. Questa attesa è molto più grande di quella che lei immagina. Ve lo dico sinceramente perché tutti vogliono vedere questo campo. inoltre, con la visione di Roma, con la visione di Roma, con la visione di Roma. Inoltre, Tutti i blocchi di montaggio sono qui per quello che può fare una fantastica Rider Cup. Una fantastica golf course in una fantastico, icona città. E... Sì, sai che abbiamo 24 dei migliori ai più giocatori di la planetà che giochiamo. E non ci lasciano mai ridere. I tifosi italiani, ovviamente, pur essendo abbastanza nuovi al golf come sport, penso che per loro sarà comunque abbastanza facile identificarsi con la squadra europea. Ma penso che sicuramente sarà una settimana di festa per tutti, sarà una settimana di passione e il pubblico italiano saprà farsi valere. Ospitare la Rider Cup 2023 per noi significa non solo un sogno realizzato, ma l'inizio di un nuovo percorso. Part of the huge appeal in coming to a nation like Italy is that the Rider Cup can leave its mark. That's why all of us are working so hard to make sure the event is as successful as it can be. Il nostro motto, infatti, è Playing the Future. Quindi immaginiamo che con la Rider Cup possa nascere qualcosa di straordinario per il Marco Simone, per il golf italiano e per il golf mondiale. Sarà pari a quello che noi abbiamo sempre immaginato e soprattutto che ha immaginato chi ha creduto in questo progetto. Il futuro sarà un futuro importantissimo. www.idolaescriz seems, www.idolaescrizzi 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 Grazie.